Una delegazione di studenti del Centro Internazionale di Formazione delle Nazioni Unite, in vidita Palazzo Lascaris, è stata ricevuta dal Presidente dell'Assemblea regionale. Provenienti da Bangladesh, Ghana, Nigeria, Sudafrica, Sudan e Repubblica del Vanuatu, i corsisti hanno partecipato a una lezione sul sistema di evidenza pubblica tenuta da funzionari del Consiglio.